bolognesi senza fissa timora senza una conferenza in cui fare cagnana e l'onziopei chiama i 156 poi vengono in due i soliti due scene da federazione birrate per pochi ubriaconi tra i lari da me la figa del poppy si scelgono i vini d'italia citerna competizione nostalgici le regime si chiamano per me lezioni ma chi è divino in due pudre non può spacciare e ovetti tattica da modesi che il preno mare gli ha i suoi frutti insomma si impara a fare skin training schiaccendo gli gatti e sottendo e dopo l'allenamento spesso e tutto l'avvento la porta si scesa tra i letto chissà se il numero uno ma chi è ci sento indicato intanto non più nessuno ma mi ha un papà culo suoi tre meno si faccia tra i letto me li catena pubblico a me e alla tassella di cappare le fan d'entro fa path face non farci cagli e buono ai stillori e questo si capisce Ovunque c'è Braga, noi siamo già sulla strada, dobbiamo bere, stando a sedere. Su un dabla roto dal mondo, su un dabla roto dal mondo, su un dabla roto dal mondo. Ma se di un giorni rive, andai veni a tre, ma non mi ci imprendendo, direi me, sono soggie belline, sono soggie, non vanno tant'ottine, ma pure andai, non vanno a tre, 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 non vanno a tre. E' bella federazione, presieduta da Puglione, in sesta da generazioni, la canta ce l'aveva pure, ma non la voleva passare, così ci siamo tentati, io e Pedrina Scannota. La federazione, presieduta da Puglione, la canta ce l'aveva cura di Lancia, in sesta x-issible, che si disse da Puglione, in sesta da fin le,isationsco l'avevo pure, ma non la voleva passare, così ci siamo tentati, ne vanno a tre, non vanno a tre, non vanno a tre, non vanno a tre da mummy, inside a mare, inside a pit-bye, inside a mutma.